Era l'1.40 della notte tra lunedì e martedì quando una molotov è stata lanciata contro la caserma dei carabinieri di Pergine Valdarno. Un ordigno artigianale, una bottiglia di vetro piena di liquido infiammabile con lo stoppino già acceso dalla quale sono partite le fiamme, poi un boato nella notte che ha svegliato bruscamente i residenti. Ero in bagno, mi sono affacciata un attimino e ho sentito un leggero botto e poi ho pensato fosse un petardo o qualcosa così. Poi invece dopo due minuti ho cominciato a vedere questo fuoco che avanzava, mi sono affacciata alla finestra e abbiamo visto che ci hanno dato fuoco alla macchina di servizio. È stato abbastanza traumatico. Adesso proseguono senza sosta e a tutto campo le indagini dei militari per risalire al responsabile del gesto. Nel rogo è andata completamente distrutta anche l'auto di servizio parcheggiata fuori dalla sede. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della caserma e della zona. Chi ha lanciato l'ordigno però potrebbe aver studiato bene il colpo, posizionandosi in un angolo nascosto dagli occhi elettronici. Ma per arrivare alla caserma l'autore del folle gesto ha comunque dovuto percorrere le strade circostanti e potrebbe essere stato così immortalato da uno degli altri impianti. Al momento comunque non c'è stata alcuna rivendicazione. Secondo gli stessi militari non si tratterebbe però di un attentato a sfondo politico ma di un atto di vandalismo o un sabotaggio. Sono molte le manifestazioni di solidarietà all'arma e ai militari di Pergine Valdarno. Ieri anche il vice ministro dell'interno Matteo Mauri ha avuto un colloquio con il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Vincenzo Francese, per manifestare la sua vicinanza. Lanciare contro una caserma una bottiglia incendiaria, ha detto, è un atto criminale che non va sottovalutato. I responsabili di questo gesto, che auspico siano individuati al più presto, devono sapere che lo Stato non si lascerà mai intimidire.